Buongiorno, voglio parlarvi oggi di Anna Cascella, che ha debuttato qui a Siena vincendo il premio Laura Nobile in memoria di una ragazza liceale prematuramente scomparsa, con la raccolta Tesoro da Nulla, fortemente sostenuta da Franco Fortini. Iniziava così una carriera, il giorno c'ero, 2 dicembre del 1989, che l'avrebbe portata a scrivere molte raccolte, ora distribuite fra vari volumi, tutte le poesie dal 73 al 2009 per Gaffi, editore, e poi Gli amori terreni dal 2009 al 2012 per L'oblicuo, e infine dal 2013 al 2017, ma uscita adesso nel 2022 tra spighe viola pallido per Macabor, editore. È una voce estremamente delicata e un timbro molto personale e caratteristico, che caldamente raccomando. Questo volume contiene, oltre alle due raccolte che danno il titolo, una lunga prosa autobiografica che tocca i traumi patiti da questa delicatissima creatura, in particolare una sclerosi subentrata negli anni 90, un tumore successivo, e nonostante l'una e l'altro, lo sfratto impietoso subito in carrozzella dalla casa dove viveva e da cui vedeva dalla sua finestra, se non altro dalla la sua finestra, il mondo. Lo dico perché vorrei leggervi la poesia d'eredito, datata 11 luglio 2015, quando sembrava schiudersi una possibilità di tornare a vivere a Roma. In realtà poi questa possibilità è anche maturata e ora nuovamente Anna Cascella vive a Roma, sebbene non più nella mitica casa di Via Vespasiano che qui canta. Manca un'ora, poi verso Roma è la partenza, la Soma di fatica prende vela forse per sempre rientro vivo nel luogo che è stato mio fin dall'inizio, dove morire mi è pace e dirmi addio. Non sarà più la strada acuta delle rondini, non sarà più il cortile del merlo di passaggio, il bar Palomba non più davanti casa, dove, nelle calde sere del giugno romano o del luglio, prima delle ferie, Daniele e la moglie Francesca e i loro amici, a volte chiusa in parte la serranda, alla bevanda frizzante appoggiavano il loro giovane fresco del riposo. Li vedevo dalla finestra della casa nella luce più lunga del crepuscolo e c'era un verde ogni tanto nella luce, una coda di pavone completamente aperta, sorretta dalla volta del cielo che infiltrava gli occhi di blu, di verde, tra foglia e foglia dei platani vicini. Niente di questo avrò più accanto, chissà dove, nessuna ricorrenza di persone, di nomi già menoti meno il nome di Roma. E di due amici, dici a te stessa, Anna, che è già tanto di fronte al niente, dovessero a sorte del viaggio compiere l'impresa del ritorno. Anna Cascella Luciani tra Spighe e Viola Pallido 2013-2017 Prima, forse sbadatamente, non ho aggiunto il cognome della madre Luciani, cui giustamente per le ragioni biografiche che leggerete nel libro, Anna Cascella Luciani, così tanto tiene. Libro di Macabor che vi consiglio caldamente. Grazie, arrivederci. Grazie.